Sia lodato Gesù Cristo Ciao vicini miei, eccoci qui nella comunità del Vangelo di oggi con fra Stefano, il Vangelo del giorno venerdì 1 novembre Solennità di tutti i santi Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo! Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo la comune intercessione di tanti i nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te o Signore In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a pregare e insegnava loro, dicendo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli! Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati! Beati i miti, perché avranno in eredità la terra! Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati! Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia! Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio! Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio! Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli! Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia! Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli! Parola del Signore Lode a te o Cristo Le beatitudini Questa è la via che i santi hanno percorso. Loro hanno capito che essere poveri in spirito significa liberarsi dal peso dell'orgoglio e dell'avidità per fare spazio a qualche cosa di più grande. Hanno pianto, sì, ma quelle lacrime hanno irrigato semi di compassione. I santi non erano superuomini o superdonne, erano persone come noi, che hanno scelto di rispondere all'amore di Dio con tutto il cuore. Hanno trovato forza nell'amitezza, non perché erano deboli, ma perché avevano scoperto una potenza più profonda. Pensiamo a madre Teresa che conforta un moribondo nelle strade di Calcutta. Lei stava vivendo l'amore in modo radicale, lasciandosi guidare da una fame e sete di giustizia che andava oltre i suoi bisogni personali. E noi ricordiamoci che ogni santo ha iniziato con piccoli passi. Forse oggi possiamo offrire un sorriso a qualcuno che sembra triste, o trattenere una parola dura. Forse possiamo perdonare un vecchio rancore, o tendere una mano a chi è stato emarginato. Le beatitudini non sono un elenco di requisiti impossibili, ma un invito a vivere pienamente. Si chiamano a vedere il mondo con occhi nuovi, dove la vera ricchezza sta nel dare, la vera forza nella gentilezza e la vera vittoria nel perdono. La santità non è una destinazione lontana, ma è la strada che sta sotto i nostri piedi in questo momento. È un viaggio di crescita, di scoperta, di amore sempre più profondo e su questa strada passo dopo passo scopriamo che la vera felicità, la vera beatitudine è sempre stata alla nostra portata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità ti invito a unirti a noi. Clicca per condividere perché con la condivisione favorisci la diffusione del Vangelo e ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto ciao ciao e abbi cura di te.